buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv iscrivetevi al nostro canale youtube ai nostri canali alternativi ramble e odyssey e sostenete vi chiedo di sostenere il lavoro del nostro canale lo potete fare facilmente dal sito web www.casa del sole punto tv barra sostienici abbonandovi ce ne sono ci sono varie forme di abbonamento o mandandoci un contributo una tantum e continuando a partecipare con noi come state facendo e grazie per questo oggi parliamo di multipolarità di molto di multiculturalismo e lo facciamo con il nostro amico michele putrino scrittore e responsabile della scuola stoica buonasera michele buonasera a te jeff buonasera a tutti gli ascoltatori michele la fonte dei problemi della nostra società non risiede nella volontà di qualche oscura elite bensì nell'ideologia che domina le menti della maggior parte degli uomini e delle donne di quest'epoca è una tua frase ed è difficile non essere d'accordo con la tua riflessione ma vorrei fare dei confronti anche con altre aree geografiche il popolo africano per esempio non sembra affetto dagli stessi nostri problemi e pare piuttosto impermeabile alle storture occidentali non è che oltre all'influenza nefasta dei chewing gum dei pancakes e delle hamburger il problema dell'uomo e delle donne occidentali è che siamo più manipolati e non dal 2020 come qualcuno crede di essersi accorto ma forse da un paio di secoli o più che siamo prigionieri di una narrativa autocentrica che ci porta così lontano dalla realtà da non permetterci più di vederla e mi riferisco anche a chi è alla volontà di cambiamento non è che perché tutti adesso parlano di mondo multipolare ma non è che per avvicinarci a questo mondo multipolare prima dobbiamo fare una rivoluzione culturale noi stessi che ci riporti più vicino alla natura umana e che ci contraddistingue fra l'altro dalle altre specie che ci permette di confrontarci alla pari con le altre culture perché sennò quale multipolarità può essere possibile? Assolutamente sì Jeff anzi come sai è la tesi che porta avanti praticamente da sempre io infatti non non credo nel fatto che tutto sia gestito semplicemente dall'alto per un semplice motivo per cui per il motivo per cui in una massa così grande come la nostro mondo come la società in cui viviamo oggi non puoi fare nulla se non c'è una volontà dal basso se è anche qualcosa di distruttivo in realtà non è desiderato dalla popolazione questo è quel processo che viene chiamato comunemente totalitarismo il totalitarismo non si può affermare se non c'è la volontà del popolo dentro il proprio la propria anima cos'è successo nella nel nostro mondo occidentale beh in realtà noi viviamo in un totalitarismo vero e proprio è un dato di fatto quello che noi percepiamo come pensiero unico non è qualcosa di imposto dall'alto attenzione bisogna iniziare a far penetrare anche in italia questo concetto ok bensì è una ideologia che è all'interno dei cervelli di praticamente tutte le persone occidentali questo concetto finalmente inizia a prendere piega forte nelle negli stati uniti molto negli stati uniti e anche nel nord europa grazie a tutta una serie di pensatori come per esempio mattia matthias desmet autore di psicologia del totalitarismo o shoshana zuboff dell'autrice del famoso capitalismo della sorveglianza o altri autori di questi giusto per citare più famosi finalmente finalmente nel mondo occidentale dei cosiddetti ribelli ecco si sta uscendo da quel vecchio schema che porta le i ribelli a credere che ci siano semplicemente soltanto no delle persone dall'alto che dirigono tutti come dei burattini e si torna a guardare in faccia la realtà e la realtà è cruda ancora peggiore realtà se vogliamo jeff si fa capire che il software che abbiamo nel cervello se la responsabilità è delle persone di cui noi facciamo parte del gruppo sociale di cui noi facciamo parte no e in cui ci troviamo a vivere in continuazione qual è però questo meccanismo questa ideologia di cui sono tutti ossessionati no questa ideologia che comanda il mondo occidentale ebbene ha un nome ben preciso e si chiama meccanicismo cioè tutti noi tutte tutte le persone oggi tendono a vedere il mondo in maniera meccanica cioè un problema va risolto va aggiustato quindi non si accetta più la sofferenza il dolore i problemi che si presentano nella vita e se questi problemi si presentano è dovuto e sono dovuti a un problema tecnico che si può aggiustare si può sistemare e da qui da questa visione del mondo che siamo arrivati al governo dei tecnici pensate l'ossessione per il governo dei tecnici dei tecnici prima a livello economico se vi ricordate a livello finanziario poi a livello medico l'abbiamo visto c'è tutta questa ossessione poi a livello giuridico abbiamo visto i val le varie tessere di autorizzazione e così via tutto deve essere un meccanismo una macchina io l'ho chiamata spesso come sai anche nei miei libri la mega macchina questo mega sistema e questo è il sistema quello di cui tutti parlano però alla fine nessuno va a toccare con mano che cos'è realmente il sistema il sistema è questa è una macchina sociale è un enorme ingranaggio dove tutti tutti siamo vittime ma anche autori di questo sistema parten cioè siamo noi ad alimentare questo sistema a cui noi collaboriamo collaboriamo attivamente senza magari capirlo ma a cui noi collaboriamo esatto e i leader coloro che noi andiamo a identificare come i leader che sono che identifichiamo come gli autori di questa macchina ok perché ci viene spontaneo in realtà non fanno altro che dare al popolo ciò che vuole cioè loro a loro volta sono semplicemente dei diciamo così dei piloti che dirigono la macchina che la massa vuole alimentano ancora di più infatti se voi andate a parlare con questa gente o ascoltate queste persone parlano sempre del seguire il trend il trend gli imprenditori parlano di seguire il trend i banchieri parlano di seguire il trend e questo trend da cosa è dettato da queste ideologie che domina il mondo ecco perché si arriva ad un certo punto in maniera naturale al al a pensare appunto ad avere le autorizzazioni ovunque dal fare tutto online tramite anche i soldi a diventare anche del denaro digitale fino così via ad arrivare fino al punto dell'infamosa ossessione per l'intelligenza artificiale al transumanesimo come vedete tutto collegato ed è collegata anche la visione la famosa visione politicamente corretto walk chiamiamola come vogliamo del pensiero unico perché perché ad un certo punto tutto si appiattisce e tu sei un atomo tu devi essere uguale a tutti gli altri per far funzionare questa macchina come vedete non è non sarebbe possibile una cosa del genere governata dall'alto è impossibile pensare qualcuno che si metta a tavolina a gestire tutto questo per decenni per secoli a meno che non ti assicuri la collaborazione degli stessi ingranaggi esatto ma a loro volta chi chi fa dall'alto questo lo fa perché segue il flusso ok vede questo e ovviamente alimenta ancora di più lavora per alimentare ancora di più non sto dicendo che non esiste un'elite che gestisce dall'alto tutto questo è ovvio ma quello che sto cercando di dire che loro l'elite a sua volta è ossessionata da questa visione è altrettanto preda di questa visione ideologica quanto la popolazione quindi è un po un cane che si morde la coda è un sistema che si alimenta da sé ecco questo è importante capirlo e perché e qui arriviamo al discorso della rivoluzione pure culturale che quella che andrebbe fatta perché è possibile tutto questo perché questa poi è la domanda delle domande uno potrebbe far risalire questo per esempio all'illuminismo perché l'ideologia meccanicista del no della meccanica del mondo come come macchina nasce con l'illuminismo pensate anche non so prima cartesio no che vedeva il mondo l'uomo il corpo umano come una macchina ma tutto il processo della meccanica nasce con questa ideologia sì ma perché è avvenuto questo e perché la gente desidera questa visione perché la alimenta non basta tirar fuori lo sappiamo un'ideologia una filosofia e pomparla molto per inculcarlo non basta questo gli studiosi di psicologia della massa delle masse lo sanno bene dalle bon a freud a tanti altri deve esserci sempre il terreno fertile sempre e qual è questo terreno fertile ebbene questo terreno fertile si chiama solitudine e mancanza di senso dell'esistenza affinché un totalitarismo si possa affermare quindi una visione comune una visione meccanica della vita si possa affermare deve le persone devono sentirsi estremamente sole e senza e con un vuoto esistenziale dentro a quel punto cosa succede succede che le noi esseri umane abbiamo bisogno di un rapporto di rapporti sociali è ovvio siamo come dicevano gli antichi esseri sociali animali sociali quindi abbiamo bisogno di un rapporto sociale ma nel mondo in cui viviamo noi adesso ad esempio dove siamo tutti isolati no dove tutto tutti facciamo tutto solo tramite computer questa esigenza nostra fondamentale non è che è sparita è forte è latente è dormiente ma c'è esatto e allora cosa succede che appena si presenta una un nemico da combattere ad esempio ebbene tu ti senti di nuovo parte di una squadra è da lì che si creano le masse da distinguere un po dalle folle la folla è diciamo una cosa che si afferma momentaneamente su una piazza magari fa casino e poi svanisce la massa è qualcosa che rimane quello che vediamo noi adesso noi viviamo nella società di massa no e segue ogni una visione questa visione è quella che noi percepiamo come pensiero unico che è quello che vuole la massa e la massa quando è sola quando l'individuo che appartiene alla massa si sente solo ok è vuoto dentro ha bisogno di riempire di colmare questo vuoto e questo vuoto viene colmato dal sentirsi parte di questa qualcosa di enorme un nuovo gruppo finalmente no mi sento parte di qualcosa la squadra pensate pure alle squadre di calcio e allo stesso momento riprendo un senso ho di nuovo un senso dell'esistenza sto combattendo quanto contro un nemico che poi sia un nemico diciamo fisiologico un batterio un virus un nemico esterno i russi i marziani non importa ok però c'è un nemico una missione contro cui un qualcosa contro cui agire e quando questo avviene attenzione non importa più se la cosa è razionale o no e questa è la parte molto interessante della psicologia delle masse diciamo così e o del totalitarismo questo che ci differenzia per esempio dal popolo africano perché gli africani hanno come principio base dentro loro stessi e io sono perché siamo noi invece ci siamo persi in dei rivoli di individualismo estremo che ci ha fatto perdere di vista l'umanità perché poi cerchiamo le squadre di calcio le guerre il nemico comune ma che sono cose falsificate fittizie che poi temporanee che spariscono invece è un senso di comunità che dobbiamo che non abbiamo esatto esatto perché siamo alla fine come un albero sradicato dal terreno no è normale che poi inizi a marcire tu sei sradicato dal tuo terreno naturale è ovvio e qual è il terreno naturale degli esseri umani gli altri esseri umani è anche il collegamento con la natura il toccare pure la natura no l'avere a che fare il percepire i cicli della natura il percepire i cicli sociali fisici lavorare insieme con le altre persone se ci fate caso quando fate qualsiasi cosa con un'altra persona anche preparare la pizza aggiustare una porta uno si sente bene quando magari lavoriamo per ore di fronte a un computer da soli magari guadagniamo anche migliaia di euro attraverso operazioni nasce sempre noi l'angoscia qualcosa vorrà dire i popoli invece che hanno mantenuto un contatto diretto tra i gruppi sociali e piccoli attenzione devono essere piccoli volutamente piccoli perché noi esseri umani non percepiamo la massa infatti non è un caso che quando siamo in piccoli gruppi stiamo bene quando siamo in una folla pensato un il centro di stare nel centro di una grande città come milano roma eccetera ti senti comunque solo mentre se sei in un sulla piazza di un paesina parlare con il vecchietto con la signora eccetera ti senti vivono ecco è proprio questo quello che manca oggi quando questo manca l'essere umano lo ricerca in qualcosa di fittizio come dicevo prima e allora è lì che nasce la famosa manipolazione delle masse perché a quel punto è l'uomo predisposto che desidera sentirsi parte di qualcosa allora quando appena senti in tv che sta succedendo x che x è cattivo ci sta capitando una cosa terribile dobbiamo unirci tu con la mente ti proietti in quella visione lì e ti senti parte di quello e il vuoto viene colmato e allora lì nasce il fanatismo jeff e lì nasce il fanatismo e la cosa inquietante è come stavo dicendo prima la cosa inquietante è che tu quel fanatismo non lo puoi fermare perché queste persone saranno disporse anche a sacrificare tutto l'abbiamo visto non è teoria strana jeff sono pronte poi a sacrificare la propria famiglia i propri beni addirittura il proprio lavoro abbiamo visto gente che è stata disponibile a sacrificare pure i propri beni materiali oltre a fare cose che magari in altri casi non evito qui di citarlo sempre per il famoso effetto che conosciamo sappiamo che certe parole non piacciono ai social però nel senso ci siamo capiti ecco in quel caso lì le persone sono pronte a qualsiasi sacrificio estremo per seguire la ma per non perdere quel vuoto quel vuoto che per non ritrovare scusate quel vuoto ritrovare perché quello è un incubo è l'inferno per le persone è l'inferno meglio perdere tutto materialmente anche la propria salute che è ritrovare quel vuoto interiore che è l'incubo per eccellenza nell'animo umano ecco perché poi nasce il fanatismo ed ecco perché poi abbiamo visto persone che addirittura andavano in giro per esempio con la mascherina e macchina da solo uno dice ma che senso ha perché perché le persone facevano questo questo era l'attaccamento a quel simbolo a quel senso di appartenenza quello scopo a quella missione anche se contro ogni logica però comunque tutti fanno così esatto esatto io questo è quello che ho sempre cercato di spiegare nei miei libri in manuale di resistenza al potere in libri della paura in tutti i video che abbiamo fatto con te jeff e purtroppo è un messaggio che è un po difficile da far capire alle persone perché è molto più semplice dire guardate c'è un cattivo che ti manipola e basta no è molto più semplice che capire questi meccanismi per fortuna adesso a pure sai di martellare anche anche autori molto molto più famosi ovviamente a livello mondiale stanno facendo anche questo lavoro quindi finalmente inizia a esserci questa con questa percezione anche tra le persone comuni soprattutto tra le persone del cosiddetto mondo dei ribelli no perché gli altri appunto se sono fanatici come dicevamo prima non seguono nessuna logica razionale però tra il mondo dei ribelli sì ed è importante capire questo perché se uno capisce questo jeff e beh trova anche le soluzioni sane giuste non va a inseguire non fa la la guerra contro i mulini al vento no quindi a questo punto uno dei passi importanti da fare o da sperare perché non è facile in questa condizione è far scattare nella popolazione nelle masse il desiderio di cambiare di cambiare questa struttura monoculturale che abbiamo dentro perché sennò come facciamo ad avvicinarci al mondo multipolare che si sta creando ecco vedi jeff se noi abbiamo teniamo ferma in mente questa visione cosa arriviamo a capire che ovviamente è diventa un utopia pensare di poter cambiare tutta la massa da qui ai prossimi dieci venti oso dire pure cinquant'anni cento anni perché ovviamente essendo un processo esistenziale ci vuole tanto lavoro fatto no personalmente per poter raggiungere una certa visione spirituale e visione esistenziale chiamiamola così visto che a tanti la parola spirituale esistenziale esistenziale è ovvio che non è un processo che puoi fare dall'oggi al domani lo possono però è una cosa che può fare una la il mondo dei ribelli quello si può fare una minoranza di persone è esatto in grado di creare di resistere no per in maniera da poter sopravvivere sopravvivere quantomeno all'interno di questo mostro e attraverso questa sopravvivenza anche porre essere utili al fine di calmare un po questo mostro perché come sappiamo i totalitarismi quando poi prendono un piede un piede forte l'abbiamo visto non è che non l'abbiamo visto quando partono per la tangente diventano estremamente pericolosi e io jeff sono convinto che quello che abbiamo visto finora non è nulla perché pensate questo processo mentale che è in corso tra le persone in questo momento le persone non vedono l'ora di riempire di nuovo quel vuoto che in questi mesi è mancato perché non è stato colmato dal processo prima quindi non ci sarà da stupirsi se rivedremo di nuovo anzi io me l'aspetto me l'aspetto ancora lo attendo che si ripresenti questa situazione ma in maniera ancora più estrema perché al secondo giro jeff ovviamente lo fai ancora più in maniera più intensa e poi lo fai in un contesto in cui ci sarà perché già c'è una crisi economica bestiale e una situazione in cui la gente non sa come fare a mancare il pranzo e la cena e sappiamo bene che più la situazione estrema più la gente diventa fanatica è un classico è un meccanismo elementare dell'essere ma quindi dobbiamo spiegare al mondo dei ribelli questo perché se poi riusciamo a creare un ragionamento corretto tra il mondo dei ribelli del ribelli al sistema intendo quindi che rifiutano questo sistema ebbene quello che però in maniera lucida jeff non nel vedere appunto utopie strane bisogna essere razionali perché col buon senso perché perché se uno ha ben chiara in mente la visione sa cosa sta accadendo realmente inizia ad agire innanzitutto non va a rompere le scatole non va a punzecchiare il fanatico perché il fanatico quando tu lo vai a punzecchiare diventa ancora più cattivo creare ulteriore divisione è esattamente l'opposto che si deve fare se io capisco questo intanto inizio a dividere se ho di fronte una persona ultra fanatica allora già evito di parlarci proprio non lo vado a punzecchiare se c'è se incontro quello un po che ha un po di dubbi devo ragionare in maniera razionale quantomeno per non spingerlo ancora di più verso l'estremismo e già sarebbe un ottimo risultato jeff perché riuscire a calmare la situazione che sta per arrivare e beh sarebbe già tanto altrimenti rischiamo di fare il gioco del sistema perché tu dai poi un capo espiatorio per cercare per incattivirti ancora di più per incattivire ancora di più la massa perché se tu vai lì e agisci nel modo sbagliato quelli poi si incazzeranno ancora di più e il secondo giro sarà ancora più crudele jeff quindi quello che spingo le persone a fare ecco mettiamola così a creare dei gruppi di persone razionali che hanno buon senso ognuno con le proprie capacità ognuno con i propri mezzi che si percepiscono come dei ribelli al sistema ma che non è che si vanno a scontrare col sistema devono agire un po da ninja voglio così da infiltrati cercare di ragionare di resistere ovviamente per se stessi no per mantenere sana la propria anima il proprio spirito il proprio processo interiore ed è già enorme risultato e nel frattempo cercare di far ragionare quante più persone possibili col buon senso non per cambiare la cosa il processo perché l'abbiamo capito questo mostro fino a quando non collasserà non riusciremo a cambiarle si vede e chi dice il contrario racconta delle utopie jeff diciamoci la verità no ma per cercare di calmare questo mostro per non farlo impazzire del tutto e spingerlo fino ad arrivare a compiere cose folli che siamo quando abbiamo a che fare con i totalitarismi siamo sempre un lì per lì jeff e l'abbiamo visto nella storia perché poi questo mostro non è globale non è assoluto questo mostro è soprattutto occidentale perché mi immagino anche un sudamericano ma soprattutto un africano anche un africano colto preparato magari che lavora in università e se legge un libro di harari con i suoi programmi e forse non lo capisce forse lo mette da parte se lo dimentica cinque minuti dopo perché la realtà è un'altra c'è un altro approccio anche con il tempo con lo spazio con la vita con tutto sì però sei jeff è vero quello che dici infatti il sud del mondo diciamo così normalmente è sempre stato ha sempre un po rifiutato questo concetto del progresso della macchina e così via ma bisogna stare attenti perché un'ideologia che sta entrando in testa è sempre stato assoggettato perché schiavizzato e derubato però sì ha sempre un po in qualche modo resistito anche se in modi diversi però è un ideologia vedi jeff a furia di negli anni se tu vedi le nuove generazioni il fatto che anche in sud america adesso corrono a comprare l'ultimo cellulare l'ultime scarpe della nike ti fa capire che quel processo entrato in testa anche a loro è una cosa che sta diventando globale ci sono delle sacche di resistenza delle zone di resistenza ma è qualcosa che inizia no perché è un virus mentale ecco mettiamolo così come il virus dei computer ci sono i virus si diffonde piano piano e si diffonde anche lì perché perché promette benessere materiale cioè da quello le persone poi sono attratte no e quindi ti si entra in testa e quindi c'è questo processo che non è un caso è l'esempio che abbiamo visto con gli ultimi negli ultimi anni di quello che è successo negli ultimi anni che ha toccato l'intero globo ci fa capire che un processo mentale che già presente nella testa magari c'è qualcuno che è un po più indietro in questo processo che ha resistito un po di più però il processo è quello già e quando si ha a che fare con questa roba globale fino a quando poi non collasserà non la fermi è una cosa importante da capire però se abbiamo un 10 15 20 magari per cento di persone di ribelli a questo sistema ovviamente non lo fermi perché non lo puoi fermare ma quanto meno lo puoi tenere a bada lo puoi puoi cercare di calmarlo di non farlo partire per la tangente ok che quella invece poi la cosa pericolosissima perché ad un certo punto come spiegava freud in psicologia delle masse le masse diventano come un corpo e un corpo poi espelle ciò che non riconosce appartenente al gruppo ok ed è lì che diventano le cose pericolose pensate al ventesimo secolo quello che è successo se andate a guardare la storia di succedendo anche adesso perché sta succedendo al contrario con i russi ma è tanto è proprio come un corpo no ad un certo punto le masse diventano cellule di un corpo lo spiega molto bene freud questa cosa e e quindi di conseguenza si percepiscono come un corpo e quindi ciò che le cellule che non appartengono al corpo vengono cacciate via no attaccate distrutte proprio un meccanismo vogliamo fisico anche abbastanza semplice anche come processo e noi è quello che al momento dobbiamo cercare di evitare che si arrivi a questo e l'abbiamo visto che si si giunge facilmente l'abbiamo visto quindi pensate la sentiamo spesso sì quindi è qualcosa jeff il nostro lavoro deve essere quello innanzitutto di salvaguardare la nostra natura ovviamente no non cadere ne pre non cadere né preda del del sistema perché altrimenti lì la vita è finita e né del fanatismo che è stato né del fanatismo per riuscire a essere ecco quel tampone per il sistema e nello stesso momento salvaguardare la nostra natura i sistemi ci sono bisogna conoscere come si fa le tecniche di comunicazione bisogno l'approccio etico personale di comportamento e anche quello con gli altri c'è tutta una serie di metodi ci sono una serie di metodi per farlo cercare di stare di fare gruppo con gli altri in maniera fisica perché quello mantiene mantiene viva la persona e poi ecco non cadere nell'illusione di fare chissà cosa perché quella cosa li poi porta al fanatismo e ti conduce a fare danni enti per andare verso la chiusura alleggerendo un po alleggerendo un pochino e come facciamo a parlare con chi soffre di eco ansia perché io per esempio mi sto curando dall'eco ansia con delle pillole di silenzio cerco di spegnere tutti i device televisioni della casa e del palazzo e come facciamo a parte gli scherzi allora guarda con il fanatico lo ripeto non si parla jeff cioè tu hai a che fare con il super fanatico che se ne esce con certe cose folli non parlare quella vista in televisione era una scenetta sì sì però dico anche io dico sempre prendiamo tutto per vero che diventa ancora più semplice mettiamo che tutto vero tutto tutto come vediamo no e ci siano tutte queste ragazze che soffrono di eco ansia che sulle televisioni australiane americane inglesi quindi ma guarda jeff facciamo proprio un'operazione psicologica ancora più semplice no accettiamo tutto 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 vero tutto giusto hai di fronte una persona che come minimo è in preda un fanatismo non mentale forte non fanatismo proprio che è dentro la dentro le sue cellule proprio patologico non volevo usare questo termine e quindi con queste persone tu non puoi né devi parlare jeff perché qualsiasi cosa che andrei a dire servirà solo per alimentare ancora di più il loro fanatismo ma questo è in tutto jeff in tutto tu prova a parlare con un fanatico del calcio non puoi alzare nemmeno il minimo dubbio sulla sua squadra del cuore quindi con i fanatici non bisogna parlare quella è la cosa che bisogna fare jeff finanziato mai parlare con i fanatici lasciarli ecco come dici tu spegnere no dice sì sì va bene no è come parlare con un matto tu vai a discutere con un matto no quello che attacca ancora di più no mentre bisogna cercare le persone che hanno un minimo di di dubbio e sono in tanti il professor mattia mattias des me l'autore di psicologia del totalitarismo riporta un dato statistico molto interessante dice guardate in genere nei processi di totalitarismo ci sono in tutto è dal calcio di qualsiasi situazione c'è un 30 per cento di fanatici che sono così e basta 50 60 per cento che sono in dubbio però seguono i fanatici perché sappiamo il famoso effetto coda no vabbè in genere c'è un 10 20 per cento di ribelli che non che non desiderano ovviamente che non si sente proprio agio in quella situazione dice con quel 30 per cento scordatevi di poter aprire qualsiasi discussione anzi vi state condannato un do da soli perché non seguono non c'è non vogliono avere a che fare con la ragione con il buon senso è ovvio altrimenti non sei fanatico quindi inutile che vai a ragionare con quelle persone quel 50 60 per cento invece con quel 50 60 per cento ci puoi ragionare però devi stare molto attento perché ricordati che sono anche loro nel processo di fanatismo ma devi stare attento a quello che dici come lo dici come ti approcci no è come una persona che è nervosa che preda la rabbia e tu non puoi andare lì e gli dice ah cazzone quello si incazza ancora di più devi andare lì ti avvicini lo prendi no con diplomazia ecco quindi questo è quello che secondo me bisogna fare ovviamente molto più complesso di così nel nel processo però idea quella trattare con cura quindi trattare con cura la comunicazione e anche le informazioni grazie michele grazie per oggi e arrivederci alla prossima volta grazie a te jeff a presto grazie a tutti voi e ripeto iscrivetevi al nostro canale youtube rambo e odyssey e se volete e se potete sostenete il nostro canale lo potete fare dal sito web www.casa del sole punto tv barra sostienici o con un abbonamento con un contributo una tantum noi ne abbiamo bisogno per continuare il lavoro che stiamo facendo di informazioni di tele giornale di interviste e approfondimenti diretti grazie per essere stati qui con noi e arrivederci alla prossima volta